Musica Venerdì 6 aprile, buongiorno ai nostri ascoltatori, ben trovati l'appuntamento con Pomeriggio con noi. Andiamo subito sulle testate online, testate giornalistiche online, per un aggiornamento delle notizie della nostra provincia. Cominciamo con Lucca in diretta, vediamo l'apertura, primo waltzer nella società partecipate, Claudio Delprete, resta alla guida di Lucca Holding, conferme anche Percelli, Itinera e Jacopetti, Gesam, Luce e Gas. Facce nuove invece per il consiglio di amministrazione di Lucca Crea. Andiamo ora invece sulla testata lo schermo, vediamo a che cos'è dedicata l'apertura. Buone notizie dal mondo imprenditoriale, nel 2017 le imprese lucchesi hanno ripreso a investire. Parliamo dunque del lavoro e delle aziende della nostra provincia, vediamo qualche dettaglio in più. Dopo anni di flessione nel 2017, chiedo scusa, gli impegni vivi a Lucca sono cresciuti del 2,7%, con una prima inversione del ciclo negativo presente sin dall'inizio della crisi, mentre in Italia e in tutte le province toscane sono ancora in flessione. Lucca ha quindi riguadagnato alcune posizioni perse in passato a livello regionale e nazionale, con un andamento positivo proseguito anche nei primi mesi del 2018. Andiamo sulla nostra testata, Noi TV, la TV, le imprese lucchesi, anche noi apriamo con questa notizia, tornano a investire. Dopo anni di flessione, gli impieghi vivi in provincia di Lucca sono cresciuti del 2,7%, con una prima inversione del ciclo negativo presente sin dall'inizio della crisi, mentre in Italia e in tutte le province toscane purtroppo sono ancora in flessione. Andiamo ancora, ora andiamo invece sull'altra testata della tgregione.it, Carnevale e Pucciniano, la CGL, chiede chiarezza sul futuro delle due fondazioni, dopo che è stato annunciato che l'amministrazione vorrebbe fondere le due realtà e creare una superfondazione che si occupa di tutte le iniziative culturali del nostro comprensorio. Circa l'intenzione di razionalizzare le due fondazioni, si legge sul sito di tgregione.it, le due fondazioni del Carnevale e del Festival Pucciniano di Torre del Lago, ci chiediamo come sindacato e come lavoratori se la frequenza ravvicinata con la quale queste sono state rilasciate negli ultimi tempi sono la manifestazione dell'intenzione di procedere su questa strada o che cosa. La nota stampa porta la firma di CGL della provincia di Lucca e fa riferimento al futuro delle due istituzioni. Sempre su tgregione.it vediamo se ci sono altre notizie. Società della Salute, Alberto Colucini, consigliere comunale d'opposizione a Massarosa, torna all'attacco e dice la Giunta paghi i debiti o altrimenti, se non è in grado, lasci. Poi ancora vediamo gli aree 2018, è iniziato il countdown, presenti cantieri e imprese esteri e italiani leader mondiali nel settore con i comandanti in rappresentanza di armatori e società private. No all'asse di penetrazione nell'ultimo lotto, quello che dovrebbe attraversare la via Indipendenza passando al sud dello stadio e prevede anche l'abbattimento di una palazzina dove vivono nove famiglie. Domani il coordinamento non-asse-viareggio invita alla mobilitazione in difesa del patrimonio naturalistico della città. Andiamo ora invece sulla Nazione, edizione Lucca, Nazione online edizione Lucca, Berutto la resa dopo 72 anni chiude lo storico negozio di biciclette. Al suo posto nascerà un ristorante. Poi ancora vediamo se ci sono altre notizie degne. Datemi tutti i soldi, ho figli da sfamare, la rapina è avvenuta ieri e così si è giustificato il rapinatore. Poi uccise il padre a colpi di casco, pena ridotta. Vediamo qualche dettaglio a proposito di questa notizia. In appello 12 anni e 8 mesi al giovane di Saltocchio per semi-infermità mondiale. Ecco le ragioni per cui è stata diminuita la pena. Andiamo sulla Nazione online, edizione Viareggio. Medici volontari curano i poveri, ma i fondi stanno scarseggiando. Questi sono tutti medici che curano extracomunitari e italiani, viareggini e versilesi, chiunque negli ambulatori della misericordia di Viareggio, in via Cavallotti. Il servizio si svolge alla misericordia, ora però la fondazione bancaria ha chiuso i finanziamenti e non si sa che cosa potrà succedere. Vediamo ancora altre notizie. Sempre sulla cronaca di Viareggio della Nazione online. Muore una nota docente. Addio alla professoressa Martinelli. Insegnava nelle scuole religiose di Viareggio. Ancora, ora andiamo sulla Nazione, chiedo scusa, sul Tirreno, edizione Lucca. Eccolo qua. L'apertura è dedicata a un incidente. Cade nel fosso. Paura per una donna in centro. La signora è rimasta incastrata nella grata sotto il San Colombano ed è stata recuperata con l'intervento dei vigili del fuoco. Poi, ostello sulla via francigena, le idee dei nuovi gestori. Un anziano colpito al volto dal tronco che stava tagliando, cronaca nera. Poi, Toscotec è pronta a esportare 3 milioni di euro di macchinari in Argentina. Andiamo sulla Tirreno, edizione versiliese, Tirreno online. L'apertura, eccola qua giù. Orario ridotto e il pub se ne va. Vediamo dove è successa questa storia. A Massarosa, neanche tre mesi di attività che il Movida Pub di Via Roma, nel centro dunque di Massarosa, fa i bagagli e se ne va. La decisione è stata presa dal titolare Pietro Calzabianca, il quale ha ricevuto il 30 marzo scorso l'ordinanza del sindaco nel quale gli veniva imposto la chiusura anticipata alle 22 invece che a luna della notte. Il provvedimento arriva dopo mesi di polemiche, si legge sul Tirreno online. I cittadini che abitano nelle vicinanze hanno segnalato più volte alle forze dell'ordine gli schiamazzi durante la notte e non era di certo una novità che i carabinieri arrivassero per chiedere di abbassare il volume. Andiamo sempre su questa testata online, il Tirreno edizione Versilia. Forte dei Marmi cerca i vigilini, ovvero cerca rinforzi di Polizia Municipale per l'estate. La multiservizio di Forte dei Marmi ha aperto il bando per formare una graduatoria con cui assumere gli ausilari del traffico per l'estate. Quanti sono? Vediamo. Quanti ausilari del traffico, per intendersi i vigilini addetti al controllo e al pagamento della sosta, serviranno per l'estate? Non è ancora chiaro. Non saranno sicuramente pochi, visto il nuovo piano della sosta di Forte dei Marmi e circa 200 nuovi stalli blu da controllare. E poi, chiaramente, nei prossimi giorni cercheremo di capire quanti saranno esattamente quelli che verranno assunti per la stagione estiva e che cosa dovranno o potranno fare. Poi ancora gli vendono un macchinario immaginario, due imprenditori finiscono a processo e siamo a Pietrasanta, i contradaioli piangono la scomparsa di Marinella Tardelli. Bene, è tutto per questa prima parte di pomeriggio con noi. Tra poco, nella sonda con da parte, nostra ospite, la ex senatrice Emanuela Granaiola, che ci parlerà dei suoi dieci anni al Senato e del suo futuro nella politica. Linea alla regia. Seconda parte di pomeriggio con noi, salutiamo subito la nostra ospite, che è la senatrice Emanuela Granaiola, per dieci anni seduta nei banchi del Senato, è stata eletta nel 2008 nelle file del Partito Democratico e ha concluso il suo lavoro di politico e di parlamentare proprio con lo scioglimento delle Camere e con le elezioni che ci sono state lo scorso 4 marzo. Intanto grazie per aver accettato questo nostro invito. Sono stati dieci anni di grandi sacrifici, spostamenti, tanta rabbia, ma anche tante gioie. Lo rifarebbe sinceramente oggi? Penso di sì, perché è stata un'esperienza importante, a volte gratificante, a volte deludente, a volte anche abbiamo vissuto momenti di disperazione, perché quando non si vedevano approvati i provvedimenti nei quali credevamo molto, è chiaro che la disperazione ci prendeva, però anche momenti che ci hanno permesso anche di essere più vicini alla città, alla gente che aveva bisogno di avvicinare in qualche modo i decisori politici che aveva difficoltà. Quindi credo che sia stata un'esperienza importante per la mia vita, sicuramente sì. Ecco, proprio in questi giorni mi è capitato di rileggere, formazione del nuovo governo, di rileggere alcune cose degli studi classici, e mi è capitato sotto mano niente po' di meno che Pericle con il suo discorso agli Atenesi, quando dice noi ad Atene facciamo così, ovvero gli interessi di molti a favore degli interessi di pochi. Quindi si preferisce fare gli interessi di molti e questa noi la chiamiamo democrazia. Un attimo fa lei ha detto delusione a volte quando leggi importanti per la comunità non venivano approvate. Perché secondo il suo punto di vista a volte certe cose che sarebbero state interessantissime per il popolo non sono state approvate? Perché secondo me a volte la politica privilegia un modo di agire più da marketing. Secondo me la politica, e lo hanno dimostrato anche i risultati di queste elezioni, ha perso un po' troppo il contatto con le persone, con la gente, perché noi in fondo siamo stati eletti in un territorio e quindi c'è bisogno di stare vicino alla gente. I bisogni sono abbastanza uniformi in tutto il paese, pensiamo al lavoro, alla disoccupazione giovanile, anche se c'è stata una minima crescita, la disoccupazione giovanile rimane sempre a livelli paurosi. Quindi secondo me deludenti in tal senso, perché sia per quanto riguarda la scuola, per quanto riguarda il lavoro, secondo me si potevano fare, prendere altre soluzioni, si poteva agire diversamente, avere più attenzione alle povertà, proprio ai bisogni primari delle persone. E non sempre questo è avvenuto? No, non sempre questo è avvenuto. Non sempre, ce l'abbiamo messa tutta. Io personalmente credo di aver lavorato sempre in tal senso, anche restando vicino all'associazionismo, non ho mai lasciato l'associazione a cui appartengo, per cui ho sempre avuto anche, come posso dire, un contatto diretto con le persone, e ho conosciuto anche molto da vicino tanti bisogni, sia dei giovani che degli anziani, e quindi probabilmente si poteva fare di più. Tra l'altro nel suo doppio mandato ha vissuto proprio un momento più critico della crisi del nostro paese. Eh sì, è vero, in effetti sì, cioè quello della disoccupazione. Quello della disoccupazione. Della disoccupazione, perché effettivamente, insomma, il problema dei giovani è davvero enorme. Non se ne può più di vedere giovani anche che devono andare all'estero per trovare un lavoro. Guardi, io ho sgomberato il mio ufficio a Roma e mi sono portata a casa tutti i curriculum che mi hanno lasciato i ragazzi. Mi dispiace dirlo, ma di questi ragazzi sono riuscita davvero a fare molto meno di quello che avrei voluto fare, perché il lavoro proprio non c'era. Anche a volerlo cercare, a saperlo cercare, il lavoro non c'era. E i curriculum che mi sono portata dietro, perché non li abbandonerò mai, questi ragazzi, che tuttora sono in cerca di un'occupazione, sono curriculum importanti, importantissimi. Ragazzi che conoscono tre, quattro lingue, che hanno lauree importanti e che ancora non riescono a trovare lavoro. Questo è insopportabile. E probabilmente anche il risultato elettorale che è uscito dalle urne lo scorso 4 marzo in qualche modo ha a che fare anche con questa situazione qui. E purtroppo credo che la soluzione sia ancora lontana, perché vediamo anche in questi giorni le difficoltà che si incontrano. Quale governo si riuscirà a fare? Quale sarà il governo, secondo lei? Ma sinceramente credo che... Farà un passo indietro Renzi o no? Io me lo auguro. Io, cioè, un passo indietro nel senso di ripensare... Accettato, esatto, sì. Io me lo auguro, come tanti anche all'interno del Partito Democratico se lo augurano, perché rimanere sull'Aventino credo che non serva niente a nessuno. Io preferisco partecipare anziché stare a guardare. Secondo me anche il Partito Democratico dovrebbe partecipare a un governo. Con il centro-destra o con il Movimento 5 Stelle? Non saprei scegliere nel senso... Forse più col Movimento 5 Stelle sicuramente. Anche tante battaglie si sono fatte anche insieme a loro. Quindi non vedo perché proprio non partecipare, non dialogare, non cercare di esserci in qualche modo. Io sinceramente appartengo al gruppo di quelli che dicono restare sull'Aventino non serve a niente. Quindi entriamo nel governo e governiamo questo Paese. Secondo me sì. Senta, qual è stato il momento più emozionante che lei ha vissuto in dieci anni al Senato? Sono stati tanti, ma sicuramente l'approvazione della legge Viereggio perché apparteneva anche al cuore, a questa decisione. Una decisione che ha aiutato anche le vittime, i familiari delle vittime, in qualche modo a vedere affermati un po' i loro diritti. Anche se tuttora ci aspettiamo che vadano a buon fine le condanne che ci sono state. Noi speriamo che la prescrizione non ci sia, che si rinuncia alla prescrizione e ancora c'è tanto da fare. Ecco, in questo mi dispiace non esserci perché avrei voluto vedere la fine di questa vicenda. insomma, però devo dire che altre vicende sono state importanti come la commissione per la Moby Prince, il disastro della Moby Prince. Siamo arrivati a una relazione finale importante e mi ha fatto tanto piacere sentire il figlio di una delle vittime che ha detto che erano anni che aspettavano di leggere quello che abbiamo messo nella relazione. E quindi anche quello è stato per me un momento emozionante. Le manca il seggio del Senato da un punto di vista dei rapporti con la politica che conta? Ma per ora devo essere sincera no, anche perché le persone continuano a cercarmi come fossi sempre lì e probabilmente poi quando prenderanno atto che ci sono altri ma non mi rifiuto mai di metterli in collegamento con quelli che adesso ci sono e con i quali ho ottimi rapporti. Qual è oggi il suo rapporto con il Partito Democratico? Il mio rapporto con il Partito Democratico è un po' difficile, lo sappiamo bene perché a tutt'oggi anche a livello locale non siamo riusciti ad avere quel chiarimento che sia io sia che l'amministrazione si aspetta perché sinceramente ora credo che sarebbe giunto il momento di mettersi alle spalle tutti i dissidi che ci sono stati e cominciare a lavorare seriamente per la ricostruzione di questo partito a livello locale. A livello nazionale non ho mai avuto grandi problemi perché anche il mio appartenere all'EU, il mio passaggio all'EU è stato più per aiutare un gruppo che voleva poter discutere di argomenti in cui si credeva tanto come sinistra del partito, non ci si riusciva all'interno del partito. Quindi però l'anima è rimasta sempre quella. Ecco, e a Vileggio perché non si è riuscita a rimettere insieme questa frattura, a ricomporre questa frattura e avere rapporti con chi è? Forse perché si è lasciato prevalere i personalismi, anziché i bisogni del territorio, la realtà del territorio e credo che sarebbe davvero giunta l'ora di smetterla con questi personalismi. Non portano da nessuna parte e non aiutano nessuno. Lei è stata una delle grandi sostenitrici dell'amministrazione del Ghingaro, soddisfatta del lavoro che questo sindaco ha fatto a Vileggio fino ad oggi? Io sinceramente sì, perché credo che questa amministrazione, in particolare il sindaco, abbiano fatto quel lavoro grosso che era fondamentale e importante per poter cominciare a vedere rinascere questa città, cioè l'uscita dal dissesto. Io siccome ho vissuto insieme al sindaco e anche all'amministrazione i viaggi che ha fatto a Roma, al ministero, il gran lavoro che è stato fatto e credo che in questo il sindaco sia stato davvero bravo e ha avuto anche un'amministrazione che l'ha sostenuto, appoggiato in questo percorso che era davvero arduo. Lei crede che si ricandiderà a Vileggio alla scadenza del mandato del Ghingaro? Io me lo auguro, però non mi dispiacerebbe neanche se avesse desiderio di andare oltre Viareggio. Certo mi dispiacerebbe perché ha lavorato bene e credo che potrebbe fare un lavoro ottimo una volta usciti dal dissesto. Ecco, molti soprattutto tra le forze di opposizione criticano il carattere del sindaco che è troppo autoritario e poco disponibile al rapporto con le persone. Lei che dice? Ognuno ha il suo carattere, credo che questo conti anche poco. Anch'io a volte ho un caratteraccio, non lo nascondo, però credo anche che conti poco, nel senso che poi siamo in grado anche di fare un passo indietro, di ricredersi. Il sindaco ha un caratteraccio, lo dice lui stesso e quindi lo posso dire anch'io, però ha anche tante altre doti che credo siano molto più importanti per questa città. E poi sinceramente il dialogo non è stato rifiutato a nessuno, se non nella persona, nel sindaco, negli assessori competenti, che è anche giusto che sia così perché il sindaco non si può davvero occupare di tutto, altrimenti non ci sarebbero gli assessorati. Abbiamo un minuto e mezzo a disposizione, ci sono due domande, ma non scomode perché riguardano la nostra vita, la città di Viareggio. In questi giorni abbiamo visto le preoccupazioni della Casa delle Donne per la possibilità di dover chiudere momentaneamente l'attività e trasferirsi. Ecco, qual è il suo pensiero? Lei si muove per dare subito una continuità alla Casa delle Donne? Allora, io sono assolutamente certa che non c'è nessuna intenzione da parte del sindaco né dell'amministrazione di non dare continuità a questa attività, ma semmai assolutamente l'intenzione di migliorarla, trovando una sede più adeguata di quella che non è attualmente. E credo che davvero nessuna associazione abbia avuto questo privilegio, che è una cosa importante. Sono sicura che nella volontà dell'amministrazione e soprattutto del sindaco c'è quello di migliorare, di dare più spazio e più opportunità alla Casa delle Donne. Ecco perché, insomma, non mi piace partecipare a questa protesta perché ho questa certezza, protesterei contro qualcosa che assolutamente non c'è. Quindi una soluzione verrà trovata e sarà migliore. Un'ultimissima cosa, lei ha detto poco fa, è un presidente onorario di un'importante associazione che ha la sua sede nella pineta di Via Reggio. Qual è esattamente e di che cosa si occupa? È l'Auser Filo d'Argento, non l'ho mai lasciata a questa associazione, ho cercato di unire la mia attività di volontariato a quella di senatore, perché riconosco che è un'attività importante per gli anziani. Gli anziani sono una della fasce più deboli della popolazione insieme ai bambini. Le necessità sono tante, le risorse sono molto poche e credo che ci sia assolutamente bisogno, prima di tutto, di una cosa, la lotta alla solitudine. La solitudine è il peggiore dei mali dell'età avanzata e la nostra associazione è molto impegnata su questo fronte, sia su quello anche della tutela della salute, dell'accompagnamento, della lotta alla solitudine e dell'aiuto quando ci si trova in situazioni davvero disperate. Io ringrazio molto la ex senatrice Emanuela Granaiola, presidente onorario di Auser, questa importante associazione che ha la sua sede nella pineta di Via Reggio e che fa tutto quello che ci diceva poco fa la signora Granaiola. Grazie per essere stata con noi, in bocca al lupo per il suo futuro nell'associazione e se poi ci sarà un ritorno alla politica saremo ben contenti di ospitarlo. Noi ci vedremo puntuali domani alla solita ora, no domani chiedo scusa è sabato, lunedì alla solita ora. Buon proseguimento di giornata, arrivederci. Grazie a tutti.